Ciao logaritmi, oggi tratteremo della bordetella pertussis. Come potete vedere dall'immagine in piastra, si tratta di un microorganismo molto molto piccolo. Infatti, in generale, le bordetelle hanno un diametro che va dagli 0,2 all'0,5 micrometri o intorno al micrometro. La specie più importante di bordetella è il bordetella pertussis. Anche se il bordetella pertussis può dare una malattia simile, un po' più lieve, negli animali ma anche nell'umano. Al contrario, il bordetella pertussis è un patogeno esclusivamente umano. È un patogeno strettamente erobbio, è capsulato, gram negativo e ha la forma, come avete visto, di un bacillo o cocco bacillo. I fattori di virulenza che esso presenta sono innanzitutto dei fattori di adesione, in particolare l'emagglutinina filamentosa e i pili. Oltre a questo, presenta poi delle tossine che invece hanno un'attività necrotica. E queste sono la tossina dermonecrotica e l'acetotossina tracheale. Presenta poi, come tutti i grammi negativi, l'LPS e in particolare questo patogeno può presentare anche l'LOS, ovvero il lipo oligosaccaride. Infine, presenta la tossina della pertossa che invece è una tossina che controlla l'attività dell'adenilato ciclasi, aumentando i livelli di ciclico MP. E questo porta ad un aumento delle secrezioni respiratorie. Quindi, ripetendo, si ha una colonizzazione delle vie respiratorie tramite le adesine e l'emagglutinina filamentosa. In questa sede si ha poi necrosi delle cellule epiteliali ciliate, tramite l'azione della citotossina tracheale e della tossina dermonecrotica. Inoltre, si ha un aumento delle secrezioni tracheali e respiratorie in generale, con aumento della produzione di muco, per esempio. Che tutti insieme portano alla patologia. La patologia che è data dal bordetella pertussis è appunto la pertosse. Ho preso questa immagine dall'ottava edizione del Murray, di microbiologia medica di Murray, in cui è riassunto il decorso della patologia, che è un decorso piuttosto particolare. Siano i primi 7-10 giorni di incubazione e poi si giunge al primo stadio, lo stadio catarrale, in cui ci sono un po' di sintomi, diciamo, tipici del raffreddore quasi. Vedete rinorrhea, che sarebbe il naso che cola, malessere, febbre, starnuti, mancanza di appetito. E poi si aggiunge alla fase parossistica. Nella fase parossistica si ha una tosse fortissima, una tosse che fa impressione per quanto rumore faccia e che dà una sensazione di soffocamento al malato. Dopo c'è una fase convalescente in cui i parossismi di tosse diminuiscono, diminuisce la severità di questi parossismi, ma possono aversi delle complicazioni secondarie, che come vedete sono degli attacchi epilettici, l'encefalopatia e la polmonite. Fortunatamente il patogeno è esclusivamente umano ed è presente un vaccino, quindi con l'andare del tempo i casi potrebbero diminuire e forse anche essere totalmente evitati. Il vaccino è presente all'interno di una preparazione vaccinale che in Italia è il DTP in cui sono contenuti anche i vaccini per il tetano e per la difterite. La pertosse è molto contaggiosa e possono alcuni pazienti essere dei portatori asintomatici. Quindi la somministrazione del vaccino è molto indicata. Cosa contiene il vaccino? Il vaccino contiene l'emoglutinina filamentosa e la tossina della pertosse inattivata. È quindi un vaccino a cellulare. In caso il paziente sviluppi comunque per tosse, la diagnosi è sostanzialmente clinica. Si può fare anche sireologia, si può fare cultura, si può fare PCR, si può fare ELISA, ma appunto la clinica è piuttosto indicativa. Come abbiamo visto ci sono proprio degli stadi specifici. C'è il sintomo della whooping cough, come viene detto in inglese, di questa tosse. Che in italiano viene detta anche tosse convulsa. Ma comunque nel caso, dicevo, il paziente dovesse sviluppare comunque la pertosse perché non è stato vaccinato, perché non ha fatto tutti i vaccini, tutte le dosi vaccinali, oppure perché è troppo piccolo e non è stato ancora vaccinato. Ecco, in quel caso si può dare terapia di supporto, quindi terapia ventilatoria e come antibiotico vengono usati principalmente i macrolidi.